Don Ciccio Don Ciccio Il reggae è una musica che per definizione si modifica sempre è una spugna, è una vera spugna nasce dall'ascolto dei giamaicani, dello shuffle e del rhythm and blues in Jamaica durante gli anni 60 da cui poi loro hanno tirato fuori lo ska che è diventato poi rocksteady e poi reggae è per definizione una musica che cambia continuamente basta vedere la differenza fra quello che produceva la musica giamaicana negli anni 70 e quello che ha prodotto negli anni 80, 90 e oggi insomma quindi è una musica che cambia il giudizio è se è cambiato in meglio o in peggio probabilmente direi che come tutte le cose ha rivoli molti positivi e rivoli molto negativi in questo suo cambiamento insomma penso che un'altra caratteristica grande della musica reggae è che è una musica fortemente giamaicana e quindi è sempre molto legata a quella che è la dimensione sociale in Jamaica e probabilmente, anzi sicuramente con questa crisi economica internazionale in Jamaica stanno spatendone le conseguenze particolarmente per cui c'è un momento specie nell'ambito della dancehall di suoni molto dark e anche di tematiche un poco dark che non mi aggradano molto insomma non vado a cercare in Jamaica quel tipo di vibes insomma abbiamo già i Black Sabbath e altre robe che hanno fatto la storia della musica che io ascolto normalmente accanto a questo ci sono dei fenomeni molto interessanti di giovani che stanno uscendo davvero molto bravi ecco quello che però a differenza del decennio passato adesso manca il fatto che il reggae non lo si vede più molto spesso mainstream voglio ricordare per esempio il momento della Levis con Shaggy piuttosto che altri insomma quello al momento no, io vedo che è una fase abbastanza calante però come dire, è la vita, va up and down e io vedo grandi segni di risprisa specie nei giovani singer giamaicani che stanno venendo adesso fuori come Kronix, Kavaka Pyramid già Nine, una bravissima donna che canta e tanti altri insomma e anche nella dance la radio in realtà è la mia più grande passione io ho sempre lavorato in radio, lavoravo prima a Bologna la storica Radio K, radio del movimento nostro io ho vissuto tanti anni a Bologna, ho vissuto 12 anni a Bologna e adesso sono ormai 10 anni che lavoro su Ciccio Riccio che è il secondo network, voglio sottolineare che è un network commerciale ed è lì che io volevo lavorare perché voglio lavorare non solo per la mia gente ma per allargare le prospettive della nostra musica quindi volevo entrare nei supermercati, nelle case delle signori eccetera eccetera infatti la trasmissione prima della mia che è tutti i venerdì dalle 3 alle 5 su www.ciccioriccio.it è una trasmissione di musica richiesta quindi io entro subito dopo Fred Bongusto e io adoro questo ambito insomma ecco la radio per me è tutto la radio per me è il mio psicologo il mio psichiatra la radio è io, il microfono la musica che ho scelto di selezionare e il modo in cui provo a renderla alle persone unendo la musica con le parole ed il suono è davvero molto per me è una roba che se non la faccio ho bisogno di farla per cui è davvero molto importante ho passato nottate intere a Londra nella mia vita a Londra ad ascoltare le radio pirate lì ho ancora maggiormente accresciuto il mio amore per lo strumento radiofonico digitale fino alla morte nel senso che parlo così perché a casa ho una collezione di circa 10.000 dischi vinili, 45 giri e tutto però non c'è io non sono uno legato al formato così come nell'ambito dell'etichetta non guardiamo al formato ma all'arte che sta dentro la persona con la quale collaboriamo io guardo alla musica e con gli impegni, grazie a Dio tanti impegni che abbiamo settimanalmente con Mamma Marias per me è davvero molto comodo poter utilizzare la tecnologia digitale quindi il computer e tutti i supporti che possono essere Tractor piuttosto che Serato che è il mio supporto preferito per suonare perché perché ti dà molte più possibilità e molto più leggero è evidente che quando col sound system nostro con i miei fratelli Roots Train e Blood and Roots il sound system che si chiama Fidio Roots nel quale noi suoniamo vinili di reggae, dub, eccetera eccetera ecco lì ho il mio piacere di prendere il pennellino spolvero il 45 giri e lo porto molto volentieri però sinceramente la possibilità di ascoltare un pezzo alle 3 comprarlo su H1 alle 3.5 e suonarlo alle 3.30 davanti alla tua platea è una possibilità nuova fondamentale, importante non bisogna demonizzare la tecnologia bisogna demonizzare chi non sa suonare indipendentemente dal fatto che suoni vinili o suoni con un computer perché adesso con la democrazia che c'è la democrazia che grazie a Dio è stata creata da internet per cui tutti abbiamo accesso legalmente o legalmente a me poco importa ai pezzi adesso si vedono i DJ che suonano o i DJ che suonano solo dei replicanti quindi questa è una maggiore responsabilità per i DJ mentre prima bastava essere quello che era riuscito ad andare in Giamaica eri l'unico ad avere quei dischi e eri il numero 1 adesso è un po' diversi i dischi li abbiamo tutti dal ragazzino di 18 anni a me che ne ho 45 vediamo il pubblico cosa dice delle nostre selezioni ora suono perennemente in tour con Mamma Marias in questo show come ho già detto faccio la radio tutte le settimane tutti i media di pomeriggio su Ciccioriccio ho il mio sound system di roots and culture con il quale organizziamo cose nella mia città in Taranto sto costruendo un progetto mio che si chiama Party Hard nel quale andrò a selezionare le musiche che sono nate dalla diaspora dei neri africani in 400 anni siano musica nate in Brasile che in Giamaica che a Trinidad che a Porto Rico che in USA che a Londra quindi è come dire anche a Cuba per cui come dire un progetto importante che vorrei portare in giro con scenografie, ballerine eccetera eccetera e sto lavorando a quello io in più sto lavorando alla produzione del nuovo disco di Mamma Marias come sempre collaboro con una grande artista che si chiama Miss Michela che sta lavorando alle sue cose uscirà un disco nuovo di Franziska nostra storica sorella sta lavorando anche a una cosa un po' diversa dal nostro standard abbiamo incontrato un gruppo di ragazzi che fa dance music che ci piace molto il mondo in cui lo fa quindi probabilmente produrremo anche loro e a tempo perso provo a fare anche il padre perché mi sembra giusto ogni tanto dedicarsi ai propri figli ciao Reggae Today spero che non sia solo per oggi ma per la vita come lo è stato per me Don Ciccio con il cuore Reggae Today we love you Reggae Today we still don't care 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 Reggae Today we still don't care